Che cosa si svolgerà venerdì sera? Un grandissimo evento, torniamo a Pesaro dopo tanti anni, dopo aver fatto tanti anni fa il record di pubblico in Europa che ancora esiste per i centri medicenti, chiaramente, non per le città da 8 milioni di abitanti. Italia-Serbia, era Italia-Yugoslavia, riapre la stagione degli Azzurri. Credo che sia l'evento, la prima partita, l'evento più importante. Abbiamo anche molto entusiasmo nel pubblico, abbiamo già fatto, non dico sold out perché sarebbe esagerato, però ci aspettiamo l'ultima, come si dice, l'ultima spallata in questi tre o quattro giorni. I prezzi dei biglietti sono anche molto contenuti, devo dire grazie, chiaramente, oltre che alla pallavolo di Pesaro, il sindaco, gli assessori, però l'Adriatic Arena, se c'è pubblico dentro, è uno spettacolo da vedere. A che ora sarà l'appuntamento e dove sarà possibile acquistare i biglietti? Adriatic Arena, venerdì 5 alle 20.30. I biglietti, finita la prevendita, si acquistano o presso i comitati federali, provinciali e regionali, a Fano per quello che riguarda Pesaro, oppure direttamente all'Adriatic Arena.